La cultura che unisce a gruttaglie nel fantastico scenario di Casa Vestita per la presentazione del programma Oltre Lirica Music Festival 2020. Non sempre si comprende quanto l'arte possa essere risanatrice di tante problematiche, quindi farla trovare per strada al passante che a sua insaputa la incontra è un'occasione per fare in modo che anche l'arte di un certo livello incontri il pop. Un libro opera che racconta di Fausto delle Chiaie, classe 1944, vena ironica e dissacratoria. Per Fausto delle Chiaie l'aggettivo forse più adatto è quello di irregolare, perché Fausto ha vissuto così in maniera irregolare, così ha attraversato il suo percorso artistico e personale. Di lui si sono occupati tanti, dal cinema alla moda e siamo qui questa sera per presentare Fuori Catalogo, che come ho detto in diverse circostanze è tecnicamente un libro opera, nel senso che non si tratta di un testo su, ma è libro di Fausto delle Chiaie. Un progetto ambizioso che sposa l'arte in tutte le sue forme, nato dall'associazione culturale Angeli Eventi. Un evento collaterale che tra le altre cose comincia a dare un'idea di quello che sarà lo sviluppo del festival. È una questione fortemente voluta, è un festival che si allarga a 360 gradi sul mondo dell'arte, non solo sulla musica, perché siamo in un posto, quello di Grottaglie, del paese di Grottaglie, della città di Grottaglie, che si presta a diverse letture. Pino ha chiaramente rassunto quello che è il progetto di quest'anno, perché è un racconto opera all'interno della precarietà dell'esistenza, la precarietà che noi raccontiamo sia attraverso la forma con la quale appunto Fausto si instaura, raccontando quest'arte non convenzionale fuori dal comune, e che noi raccontiamo appunto oltre l'opera e nell'opera stessa, sia con l'evento di stasera e con la tematica e con la modalità di espressione di Pino e di Fausto, ma anche con quello che sarà il tema centrale che noi affronteremo il 13 settembre all'Arena delle Cave di Fantiano.